che devono crescere, che la Juve ha fatto esordire dal primo minuto, perché aveva già giocato delle ispezioni di partita sia in Coppa che in campionato, Miretti, che è entrato con buona personalità oggi, ha fatto girare un po' il pallone, non mi è dispiaciuto all'inizio, anzi, mica facile entrare con personalità, indicare agli altri dove andare e farsi dare il pallone in la Juve, no? A me è piaciuto molto, proprio per quello che hai detto tu, personalità, chiamava la palla, diceva tu devi andare a quella parte, attenzione, argati, e questo è solo un giocatore che sa leggere la partita e ha subito il carisma di guidare la squadra, perché quando senti parlare un giocatore in campo che ti dice mettiti in quella posizione e poi capisci che è giusto, dice questo mi dice le cose che devo fare, mi aiuta, ma soprattutto lui, quando aveva la palla fra i piedi, grande personalità, senza paura, il giocatore è interessantissimo, direi che oggi la Juve fra lui e Pellegrini, anche Pellegrini ha 23 anni, è giovane, è un altro giocatore che è interessante. Questi sono i numeri della partita di Fabio Miretti. Aiuta secondo te il fatto che abbia giocato in Serie C invece che nella primavera? Assolutamente, partite competitive. Infatti quello delle squadre, il progetto delle squadre B che è stato presto abbandonato insomma o perlomeno tante società non hanno ritenuto che il costo valesse diciamo la candela. Sì, sì, fare questo percorso, la Juventus comunque ha potuto sfruttare alcuni giocatori, adesso Miretti è l'ultimo però ne hanno già giocati altri, che comunque hanno un'esperienza diversa rispetto a quella dei campionati giovanili. Era 0 nella prima partita del play-off, quanto è piacenza la Juventus. Ed è passata. Ed è passata, sì, perché aveva il vantaggio della classifica. Ma quindi siamo sulla strada giusta a dare più spazio a questi giovani, visto che tra l'altro proprio in classifica c'è la squadra più giovane del campionato. I giovani, Melissa, bisogna sempre dar spazio quando sono bravi. Sì, c'è stato... E a volte diventano bravi se gli dai spazio. C'è stato... Sì. Bisogna avere forse quel coraggio. Un giocatore dell'Ajax, è stato...